Guanti molto comodi e caldi per l'inverno, riscaldano molto bene le mani, consiglio questo prodotto soprattutto per chi ha sempre le mani molto fredde, metterò in descrizione video anche altri link di guanti che tengono molto calde le mani. In più avete la possibilità di scegliere due taglie XL oppure L. In più è Prime. Buona la qualità prezzo. Vi lascio in descrizione video il link affiliato Amazon.